Avete sentito bussare? Ehi, ciao a tutti! Io sono Cinzia e oggi ho tanta paura! Sono sola in casa, ragazzi, e io cosa decido di registrare quando sono sola a casa? Cioè, io dico, Cinzia, ma perché lo fai? Niente, mi voglio male, lo so. Spero di non sentire i rumori strani, ma in realtà metterò le cuffie, però avrò paura, non lo so, non sentirò se c'è qualcuno qui con me, oppure no, aiuto, ce ne sono! Non ce ne sono, va bene, io mi metto le cuffie, aiuto, non sento più niente, ho un po' paura, magari la metto così, così sento un pochino se arriva qualcuno. Vabbè, basta, Cinzia, iniziamo. Anzi, è giorno, non è tardi. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e mettete un pollicione in su a questo video se vi piace questo gioco e vi piace il Roblox, perché lo so che vi piace. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram e TikTok. Sapete tutti qual è questo gioco? È un gioco dove c'è Peppa Pig un po' assatanata, non lo so. Ha qualche problema. Non ci ho mai giocato, ragazzi, neanche da sola, nel senso, senza registrare, non ci ho mai giocato, quindi, boh, speriamo di riuscirci a capire qualcosa. Eccolo qua, ragazzi, boh, c'è un testone qui con due orecchiette molto dolci, ma non sono dolci. Ah, già sento la musica ed è tenebrosa, aiuto. Gioca! Ah, un giocatore, sì. Non mi dire che sono io, Piggy. No, ragazzi, forse sono Piggy? Oh, mio Dio! Aspetta, cos'era quel suono? Oh, che cos'era? Ok, usa le trappole per stordire i giocatori. Ragazzi, sono Piggy! Non ci credo. Tocco ai giocatori per catturarli. Cosa devo fare? Non lo so! Purtroppo non puoi strisciare. Sei stato, lo sei stato come Piggy! Cosa posso fare? Dove sono, ragazzi? Ok, vado a cercare. Eccone uno! Andiamo! Sì! Sono Piggy! Oh, mio Dio, sono l'assassino! L'assassino! Eh, qui non lo posso prendere, vero? L'ho preso! L'ho preso! Oh, mio Dio, sono stata cattivissima! Ce n'è una qui! Posso saltare? Eh, perché non posso prenderlo, questo? Qui! Qui! Dai, prendila! L'ho preso! Non ci credo, ragazzi! Mi sto prendendo a tutti! Ma... C'è qualcuno qui! Ma come perché non lo prendo a questo? Non capisco! Dove sei? Ah! Sta scappando! No, non scappare! Ti prenderò! Dove è andato? Ecco una... Ma è sempre lei? È sempre... Ah, questa l'ho uccisa due volte già! Devo prenderci ancora la mano! Ma perché a questo? L'ho ammazzato finalmente! Oh! Ragazzi, io sono pigi, anzi! Non dovrei aver paura, però... Va bene! Ma c'è soltanto questo! Voglio fare altro! C'è nel senso, voglio altre camere! C'è una ragazza... Ah! Sono tutti qua! Aspetta che scendo! Wow! Dove sei? Dove è finita? Sento il rumore! Ti prenderò! Ti prenderò! Eccone una! Ciao, francolino! No! Si è salvata! Maledetta! Ma questa canzone di Peppa Pig fa paura! Eccola, eccola! Sta scappando! Vieni qua! Ti prendo, francolina! Com'è che si chiama, francolina? No! Mi ha chiuso! Tutto, tutto! Uh! Ne ho beccata una qui che vorrebbe scappare! No! Non puoi scappare! Sì! Se aprire! Ragazzi, vorrebbero aprire la porta! Ma no! Peppa Pig è qui per mangiarli tutti! No, vabbè scherzo! Non li mangio! Gli do colpi di ascia qui, di sciabola! Tutto, 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 tutto! Questo è un bagno! Ma è una chiave! No! Non la posso prendere io! Non voglio darla a loro, la chiave! Mannaggia! Eccola, eccola, francolina! Non so come... Chi si chiama, vabbè! Vieni qua! Ti prendo io! Francolina, dove sei andata? Dov'è? Dov'è finita? È sparita! Io sono Peppa Pig! E vi mangerò! Come voi mangiate i maiali! Ehi ragazzi, sento rumori! Cos'è questo rumore? È francolino! Vieni qui! Vieni, fra... Mi ha chiuso! Francolino! Che nome è, francolino? Uh, c'è uno scantinato! Io sono Peppa Pig! E sono venuta qui per punirvi in nome del salame! Sentito! Ecco, chi è questa? No, si è chiusa! Non si è chiusa! Sì! Ammazzala! Ammazzala! Deppa! Sofia! Povera Sofia, disintegrata! Scusate, ma come faccio a vincere? Cioè, sto uccidendo tutti, in pratica? Ma deve scadere il tempo... Oh, no! No! È uscita! È uscita Francolino! È uscita Francolino! No! Che faccio adesso? Sto qui e chi viene lo uccido? Oppure ho perso già? Non mi fanno uscire a me! Io voglio uscire! Francolino si è salvata! Ho visto qualcuno! È passato di qua! L'ho visto! L'ho visto! Non passerà nessuno qui! Ve l'avrete con me! Peppa Pig dei poveri! Peppa Pig! Trasformati in Super Peppa Pig! Wow, 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 wow! Non posso uscire! Aiuto, voglio uscire! Voglio uscire! Niente! Sono bloccata con una magia qui dentro! Eh, c'hanno una chiave qui! Guardate! Tu vorresti... Tu vorresti... Oh, l'ho presa! Traversa! Gioco over! Ragazzi! Cioè, è finito il gioco? E quindi? Ho vinto? Ditemi che ho vinto! Non mi ha detto niente! Ok, non sono più Peppa Pig! Sono arrivata con una macchina della polizia! Beh, questo è il posto in cui George Piggy è stato visto l'ultima volta! Ma perché George Piggy? Cos'era quel suono? Oh! Oh! Ma è un maiale! Ok, siamo tutti in questa stanza? Ciao, Francolino! Oh no, devo andarmene di qui! Ok, andiamo a cercare le chiavi? Ma chi è quello? Posso passare anche da qui? Sì, CTRL! Con CTRL passo da qui! Uh, che bello! Ah, è qua CTRL, va bene! Piggy si è svegliato! Oh no, è lì! Aiuto! Aiuto! Vai avanti, Cinzia! Che ci fai qui, signorina? Stai facendo la doccia? Wow! Oh no! Piggy! È là! Uh! Come si chiude la porta, raga? Non lo so! Scappa! Tavoletta! No, come si mette pausa? Non si può mettere pausa! No! Mi ha ucciso Piggy! Perché mi stava chiamando Giampaolo! Giambi, mi hai fatto perdere! Che cosa hai fatto? Siamo già! Peppa Pig mi ha uccisa! Mannaggia, Giampaolo! Gioca! Uh, qui siamo al circo, ragazzi! Ok, ok, arrivano altre tutte uguali! Perché nelle nuvolette ci sono le cose blu? Ah, è per giocare! Ti 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 vero è vicina cos'è cos'è stato questo rumore è la e pg ragazzi aiuto qui ci vuole un coso e lì pg quindi io ho questa chiave gialla che non serve se trovo quella viola magari qui non c'è niente aiutatemi ragazzi ho bisogno di voi qui c'è una chiave ma c'è anche un cattivo andiamo qui dentro vediamo se c'è qualcosa qui non c'è nulla c'era il martello c'è pg ma voglio il martello martello o chiave rossa martello per adesso prendiamo sto martello c'è ci sono le chiavi di tutti i colori no martello non serve qui dov'è che serviva il martello mi sembra che aveva fatto questa strada di qui e signorina mi aiuti per favore alla pistola ma come si aprono qui le non ci riesco io non riesco a fare niente è sparito per 20 secondi pg ma mi sa che quella cosa che ho preso non serve a niente che dobbiamo fare me lo spieghi brava che hai sparato dimmi che dobbiamo fare come si apre qui apriamo si si lo sapevo grande squadra si abbiamo vinto ma sono una pianta invece no invece sei pg qui c'è la porta azzurra qui c'è la porta verde qui ok no io non so aprire le porte come si aprono le porte ah così ok col mouse perché pg si è svegliato ragazzi non so neanche dove sia pg in questo momento trovato pezzi aiuto 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 ma è ferma pg c'è un'altra chiave qui ma mi rubano sempre tutto voglio trovare una chiave aprire una porta scendiamo giù vediamo qui serve il martello ovviamente chissà dov'è ah tu ce l'hai il martello guarda vai vediamo cosa c'è dentro questa porta ok ovviamente ha lasciato il martello raga non trovo niente io sono fregati tutto raga ma pg ancora qui che balla seriamente no avete sentito bussare è stato il gioco nella realtà ho sentito bussare servono delle monete qui io non ce le ho le monete non ho niente uffa da qualche parte troverò qualcosa vediamo cosa c'è qui che la sta aprendo una chiave ha una moneta una moneta me l'ho fregata non ci credo ah no l'ho presa l'ho presa ma non so cosa possa servire però uh servirebbe la chiave viola se la trovo so che è qui uffa ho una cosa e non so dove usarla e probabilmente si userà dove c'è pg e non fa passare nessuno qui cosa serve niente la chiave una carota non la prendo prima non c'era uh aspetta ha la chiave bianca la chiave bianca serve per questo aspetta qui qui forse qui serve la oh si si qui serve il mio quello che ho preso io quindi usiamolo siiii ok possiamo partire possiamo partire grazie a me grazie a me possiamo partire ragazzi diciamo che questa partita è stata un po' strana peppa pig stava ferma lì e non faceva nulla va bene ragazzi niente quest'ultima partita è stata un po' strana c'è pigi 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 vabbè stava lì ferma non fare niente vabbè fai niente pazienza abbiamo vinto lo stesso va benissimo ragazzi mi raccomando ditemi giù nei commenti come funziona penso di aver capito bene o male ogni cosa al tipo è un tipo un escape room no? devo prendere quello per sbloccare quella porta per quello con quello quello con l'altro penso di aver capito piano piano diventerà sempre più brava lo spero se questo video ti è piaciuto mi raccomando metti un pollicione in su così le porterò un altro noi ci vediamo al prossimo video e io vi mando un bacione enorme vi vivi tantissimo ciao ragazzi al prossimo video peppa pig ho un po' paura c'è nessuno? non rispondono magari non c'è nessuno sarebbe stato tragico aver sentito qualcuno rispondere dato che sono sola vabbè ciao